Perché Tueppi? Tueppi ti permette da una semplice mail, una richiesta di un cliente, di far scaturire una serie di eventi interni all'azienda. Puoi comunicare in chat, commenti su quella mail, puoi assegnare incarichi, puoi avviare delle pratiche, delle procedure. Quindi fluidifica il processo di comunicazione interno all'azienda e massimizzi i rapporti con i clienti.